Ciao a tutti ragazzi, buona serata, provate a mettere uno in chat, partiamo fra 5 minuti e stasera parliamo di price action, masterclass parte 2, guardiamo gli indici, quello che hanno fatto questa settimana è cosa di clamoroso, non so se avete visto anche gold, andiamo a parlare di tutte queste situazioni e integriamo l'analisi del multi time frame e l'analisi situazionale che sono delle cose che abbiamo trattato poco in precedenza, provate a scrivere in chat, vediamo se funziona tutto, diamo un attimo di tempo a tutti quanti per entrare, grazie ora si dovrebbe vedere Alessandro, grazie per il feedback, ciao ragazzi, si dovrebbe vedere lo schermo, provate un secondo uno in chat, se si vede 21.05 partiamo, adesso tutto perfetto, allora popolate il Q&A, tutte le domande che avete, cose non chiare e le andiamo a trattare insieme, si vede, si vede perfetto, ciao ragazzi, tempo apriamo anche qua, allora Alessandro, io uso spesso la distribuzione dei prezzi di Mataffa per vedere i livelli di supporto e resistenza, non so come interpretare la distribuzione dei prezzi tra Bollinger Band che è appena sotto, mi spiegheresti come posso sfruttare questa informazione? Allora, intanto la Bollinger Band è uno strumento che non nasce per la visualizzazione delle distribuzioni dei prezzi, ma è uno strumento che veniva tipicamente usato, tutti lo usano in Mataffa, ma in realtà veniva usato per il momento, cioè era una misura della volatilità, quindi ti consiglio di non concentrarti su quella parte lì, ti consiglio più che altro se vuoi andare a lavorare su Mataffa, adesso ti lo faccio vedere, guarda, ti do le informazioni necessarie per andare a lavorare bene su Mataffa, ti porto a schermo, dammi un secondo che apro sulla schermata secondaria la pagina, nel frattempo si stanno continuando a connettere le persone, allora, portiamolo qua sulla principale, ce lo mettiamo qui. Allora, Mataff intanto nasce come una piattaforma multifunzione, cioè non è incentrata sulle correlazioni, non è incentrata sull'indice di valuta, non è incentrata sul charting, sui pivot point, a tante cose, ok? Quello del quale parli tu è questa parte qua, la distribuzione dei prezzi, ok? Sulla distribuzione dei prezzi, attenzione che tu non stai lavorando sul cambio dell'euro-dollaro in questo caso, ma stai lavorando sull'euro, quindi vai a lavorare sulla valuta singola. Se vuoi andare a guardare, questo secondo me è il motivo per il quale a molti non quadra, l'euro-dollaro devi andare diretto non sulla valuta singola, ma sulla coppia, ok? Quindi il cambio euro-dollaro. E quello che vedi qua è la distribuzione dei prezzi che puoi basare sul multi-time frame, quindi puoi personalizzare come preferisci, e come vedi la distribuzione dei prezzi più consistente è sull'1.0856, ok? Quello che tu vedi sotto, questa parte qua di distribuzione, è proprio quello che ti spiegavo, ovvero le Bollinger Band usate come deviazione standard, ok? Questo non vuol dire però che quando il prezzo arriva qua, allora per forza rimbalzi e ritorni al min-value, no? È lo stesso concetto della distribuzione dei prezzi, il TPO, ok? Oppure il volume profile, solamente che il volume profile va a lavorare direttamente sui volumi, quindi quello è il discorso. Però è una piattaforma che ti permette di fare diversi ragionamenti e di andare a lavorare su diversi scenari. Ti faccio qualche esempio, se noi andiamo su strumenti, ok? E ci andiamo a portare su, andiamo a fare un esempio di indici di valuta, che è quello che abbiamo visto in precedenza. Questo qua ci permette di andare a lavorare sulla singola valuta, ok? Quindi è qualcosa di molto interessante perché ti permette, senza andare a sovraccaricare TradingView, di andare a lavorare su quello che sta facendo la singola valuta, quindi sul dollaro, sull'euro. E quando tu vai sul Forex e vai a guardare la valuta singola anche, quindi magari lavori sull'euro-dollaro, ti guardi la condizione dell'euro, ti guardi la condizione del dollaro, magari ti rendi conto, ma sai che invece che l'euro-dollaro veda una condizione più favorevole sulla sterlina, perché sto su una zona sensibile, anche sull'indice, quindi fai dei ragionamenti diversi, ok? Quindi sono tutta una serie di strumenti che possono tornare molto utili, ma che da soli non fanno la differenza. Non è grazie allo strumento che tu diventi un bravo trader. E in questo caso hai veramente tante cose interessanti che possono tornare utili. Una delle mie preferite, ve lo faccio vedere direttamente dalla home, è questa qua, è l'indice di valuta visto però a real-time comparison. Questo è molto utile per coloro che fanno momentum trading. Vediamo un attimo la chat. Allora, tantissime domande, ora prendiamo le domande, datemi un secondo solamente che finisco di trattare questo qua. Questo qua tu puoi personalizzarlo come preferisci, qua sotto puoi buttare dentro tutti gli asset e vi toglierò un attimo questa visualizzazione qua, perché vi vado a togliere tutto quanto che non sia l'euro-dollaro a livello di comparazione, ok? E magari lo mettiamo su un time frame più ampio, quale il daily. Se noi andiamo a vedere il momento in cui il dollaro ha preso il sopravvento sull'euro, sul daily, parliamo del 2 di gennaio a livello di momentum. E il momento in cui invece il sopravvento ce l'aveva precedentemente l'euro rispetto al dollaro è durato veramente poco tempo. Quindi il dollaro ha ripreso controllo il 2 gennaio, rispetto all'euro ha ripreso controllo il 2 gennaio 2024. Vi faccio vedere un po' di analisi fatta a livello di momentum. Quello che noi andiamo al 2, scusate, stiamo sul weekly, pensavo di stare sul daily, 2 gennaio 2024. Eccolo qua. Qui praticamente ha perso il controllo a livello di dominio l'euro e ha lasciato lo spazio al dollaro. Quello che noi vediamo è che questo può essere definito un point of no return, quindi un punto dal quale il prezzo non ritorna. Ora, se noi prendiamo tutta questa distribuzione dei prezzi, quindi ci stiamo basando semplicemente sugli indici di valuta, noi notiamo che questa tendenza, e qua si possono personalizzare le deviazioni standard, perché voi se vedete che questa non combacia già da quando si crea questa tendenza e volete vedere la proiezione successiva, che probabilità può avere di arrivare, potete mettere la 2 e la meno 2, che diventa già comunque più contenuta. E quello che andiamo a vedere che ogni volta che il prezzo si avvicina a queste zone qua, sostenute poi da supply, ci va a dare una condizione di momentum di bassista. Questo è un esempio pratico del come gli indici di valuta per lo swing trading possono tornare utili. Mauro ha preso l'euro dollaro, andiamo a prendere lo yen. È lo stesso discorso, cioè noi prendiamo il momento in cui lo yen ha perso il controllo, ok? E vediamo che ha perso il controllo con il dollaro il 4 di gennaio, ma anche l'euro domina sullo yen, e l'euro ha iniziato a dominare sullo yen dopo un piccolo periodo di controllo dello yen, ha iniziato a dominare il 4 di gennaio. Se noi prendiamo euro yen, questo è per trade molto più lungo termine, il 4 di gennaio vediamo un mercato che stava qua, ok? Quindi due giorni dopo del controllo del dollaro prende il sopravvento l'euro. Ci siamo ragazzi uno in chat? Stato seguendo? Certo a tutti? Perfetto, benissimo, benissimo. Ora, queste condizioni, ovviamente questo qua va fatto verde, queste condizioni devono essere poi associate, cioè una bella associazione operativa, sono gli indici di valuta, quindi andare a guardare le valute singole, andare a guardare il momentum di quest'ultime e capire il modo in cui c'è un netto scambio di forza fra le medesime. Vi faccio un esempio, prendiamo delle valute un po' secondarie, prendiamo il CAD, prendiamo l'NZD, prendiamo l'AUD, prendiamo il Franco Svizzero, usiamo queste qua, ok? Quelle un po' meno, anche gold potremmo prendere in questo caso. Gold ci va a sfasare tutta la scala perché ha fatto un rialzo della morose e adesso sta riassorbendo. Allora, se noi prendiamo in considerazione questi indici di valuta e vediamo gli ultimi cambi che ci sono stati, ok? L'ultimo cambio eclatante che c'è stato è questo qua, cioè il Franco che mi prende il controllo sul CAD, che è nettamente debole il CAD a livelli allucinanti, il 4 di giugno questa volta, non di gennaio, ma di giugno. Quindi se noi andiamo al 4 di giugno e andiamo ad analizzare CAD CHF, potenzialmente è short, CAD CHF il 4 giugno, 4 di giugno è qua, ok? Quindi da questo momento, ma lo vediamo anche a livello strutturale, qui la struttura viene nettamente in aiuto, lo vediamo a livello strutturale che il 4 di giugno il mercato ha portato a una violazione completa di tutta questa struttura, questa impalcatura di prezzo che teneva e sta praticamente andando ad aggredire questa demanda qua sotto, ok? Stiamo andando ad aggredire questa demanda e la tendenza in questo caso è di momentum ribassista continuativo, perché? Perché stiamo colpendo una valuta forte, sta rafforzando molto il Franco, guardate quanto si è rafforzato negli ultimi giorni, ok? E ha continuato ovviamente la sua discesa e al contempo quello che vediamo è un CAD debole, è un CAD che è il più debole degli asset fra di questi e queste comparazioni sono nettamente utili perché vi permettono di andare a evidenziare quando abbiamo dei cambi molto forti. Se noi andiamo a vedere qua, quando NZD ha preso il controllo netto sul CAD, NZD CAD, parliamo del 3 maggio. NZD CAD, long 3 maggio. Andiamo al 3 maggio, era qua, ok? Quello che voi noterete è che quando un asset, voi vedete che ha una escursione molto forte qua dentro, corrisponde poi ad un'esplosione di prezzo notevole dell'asset e quindi alla creazione di una demanda molto importante. Questi qua sono trade che ovviamente vanno sul lungo termine, ok? E quello che vi voglio far notare è come quando una valuta prende controllo, in modo sostanzioso, va a mantenere la tendenza a livello di regressione. Quindi se uno si prende questo momentum, se lo porta avanti già da questi punti, voi vedrete che se noi proiettiamo questi, il canale del quale il mercato tiene regola, ok? È sempre il medesimo, cioè il momentum è sempre lo stesso. Si va a ruotare sempre sullo stesso livello di bilanciamento, che è questo qua, il mercato. Va discount e ribilancia, va discount e ribilancia e sta facendo nuovamente questa cosa qua. Questi sono molto importanti perché ci permettono di andare a capire nelle analisi in lungo termine come possiamo andare a ragionare. Vi faccio vedere qualcos'altro, per vedere US 100, prendiamo un attimo FP che abbiamo tutta la parte di impalcatore, farvi ragionare in modo differente rispetto alla massa. Perché questa qua è una logica che io definisco situazionale, ovvero l'analisi multi-time frame si può utilizzare in molti modi, ok? L'analisi multi-time frame ci può dare una conferma dal time frame inferiore, dal time frame intermedio, dal time frame superiore, quindi avremo sempre un time frame timone. Quando andiamo a lavorare su indici, secondo voi, la tendenza prevalente qual è? Scrivete in chat. Tendenza prevalente degli indici qual è? A livello naturale c'è un indice, ok? Proprio per tutta la tematica di accumulo, di frazionamento, di ETF, è lungo termine, ok? Vanno a rappresentare un po' la crescita dei mercati, in questo caso americani, il tech, ok? Una tendenza rialzista può avere due approcci di essere valutata. Io già da questo mi rendo conto che quello che si può fare sui mercati finanziari è associare un ottimo grado di consapevolezza, quindi conoscere la differenza tra risparmio gestito, ETF e speculazione, che sono cose completamente differenti, e si possono andare ad unire per fare delle scelte che a livello di timing sono più intelligenti. Un piccolo esempio del quale io penso che ogni investitore possa beneficiare è, primo punto, capire i cicli di paura, quindi andare a capire come i mercati vanno a fare contrazione. Un indice, quando è che si contrae? Andate a studiare la storia, andate a vedere una condizione di pandemia globale che ha messo in ginocchio il mondo, andate a vedere una condizione di guerra mondiale potenziale in arrivo, che è partita con la situazione ucraina-russia, con la tensione NATO, che è continuata con la situazione israele-iran, destabilizzazione di varie parti che geopoliticamente sono cruciali, il cocktail che si viene a generare da questa cosa è un mercato che ne risente notevolmente, ok? Quando il mercato risente di queste condizioni e quindi vai risk-off, quello che viene definito risk-off è quando gli investitori non vogliono assumersi rischio, quindi cercano di scaricare determinate posizioni, si arriva poi in una valutazione che viene definita di analisi situazionale, quindi quando tu hai una condizione risk-off che passa poi a risk-on e quindi cominciano ad essere positive le news, come fai come investitore a cavalcare l'onda di momentum? Se non hai competenze dal punto di vista charting, dal punto di vista di analisi dei prezzi, che poi l'unica vera realtà sono i prezzi, ricordatevela questa cosa, ci sta il filone dell'analisi volumetrica, quindi del precursore del prezzo, ci sta il filone dell'analisi fondamentale, quindi della comprensione della causa, ma poi da padrone lo fa il prezzo, cioè se esce una news che dice domani collasseranno i mercati alla fine del dollaro, ma il prezzo del dollaro non si schioda, il sentiment delle persone, quello che scrivono i giornalisti, o quello che pensa la massa, non paga le bollette, quindi alla fine quello che a voi deve interessare, quello che paga, è il prezzo, e in questo caso il pagamento del prezzo è notevole, ok? Io voglio farvi ragionare un attimo a livello strutturale qua, senza andare a ragionare di cose complicate, di strutture che vanno a essere mitigate, dell'ultimo impulso, ma voglio farvi ragionare proprio su impalcature, ok? Alla fine la visualizzazione che noi abbiamo con le candele è una visualizzazione che è primordiale, che è stata creata per convenzione dall'uomo, perché il mercato, ricordatevi, che è fatto dei contratti, e quello che vediamo in questo caso è che il prezzo ha varie componenti che possono darci indice di accettazione o indice di rifiuto. Se voi da oggi dovreste andare a lavorare con una metodologia che vi permette di mappare il mercato, e la domanda fosse come puoi andare a capire quando un livello di prezzo è accettato, e quando un livello di prezzo è stato raggiunto ma non è stato accettato a livello di fair value, quindi il mercato non ha detto, ok, posso stazionare su quel livello, quale informazione dovreste utilizzare? Scrivetelo in chat. Basandoci sempre sui prezzi, quindi senza andare ad aggiungere cose aggiuntive. Il metodo più semplice che si può utilizzare è quello della chiusura della candela, ok? La chiusura della candela so che può essere vista banalmente come un'informazione, vabbè ma si è chiuso un time frame orario, allora intanto un conto è se tu puoi guardare un time frame come l'M15 o come l'H1, un conto è se tu puoi guardare come chiude la settimana e come chiude il giorno. Ricordatevi che una chiusura giornaliera è importantissima perché è l'alternarsi di tutte le sessioni mondiali, quindi passiamo per tutti i mercati, passiamo per il mercato asiatico, passiamo per il mercato di Londra e passiamo per il mercato di New York. Quindi tutti gli operatori vanno a accettare o rifiutare una determinata condizione. Una candela settimanale, immaginate che valore può avere su questa informazione, cioè a livello settimanale gli operatori concordano che a livello di aggressione, a livello di demanda, spingiamo. Ora, se noi siamo in una condizione di riscoffo, ok? Parliamo ad esempio del 10 ottobre 2022, quindi una situazione abbastanza tesa a livello geopolitico, quel periodo non me lo ricordo, anche a livello di media come veniva rappresentato, no? E vediamo che la settimana di gennaio, ok? Quindi inizio dell'anno nuovo 2023, il mercato parte con queste quattro settimane, cioè conclude il gennaio con un rialzo del 14% sul tech. Ora, una persona che non conosce i mercati e non conosce la valenza di questo dato, dice vabbè, ha recuperato un po' di quello che ha perso. In realtà, quello che stiamo vedendo in questo caso, è un mercato che ha violato una struttura cruciale e al contrario di quello che è successo qua, perché qua il mercato, quando è iniziato il ritracciamento, ok? Non aveva creato un fallimento del minimo, perché il minimo qua era stato creato, ok? Quindi il mercato ha rotto una struttura che qua aveva ancora continuazione ribassista. Quindi questo movimento qua è ad ampia probabilità un ritracciamento del trend generale. Ma come facciamo a metterlo sotto regole? Lo mettiamo sotto regole perché quest'ultimo impulso non aveva fallito la rottura strutturale, ma l'aveva generata la rottura strutturale. E quindi noi di struttura rimanevamo completamente short. L'unica cosa che sono andati a fare qua è a chiudere determinate zone di ribilanciamento, ok? Quello che accade qua dentro, invece, è che il mercato già falliva diverse volte la creazione del minimo. Quindi c'era un indebolimento notevole da parte dei sellers, che erano completamente esauriti, in uno scenario geopolitico che iniziava a rafforzarsi. 2023 è stato un anno record per i mercati finanziari. Abbiamo spinto veramente tanto. E la struttura e i prezzi rispecchiano questa cosa, ok? Le informazioni qua sono cruciali. A livello di impalcatore di prezzo, se noi semplicemente prendiamo i range con chiusure di candele che hanno provocato ritracciamenti, i range con chiusure di candele che hanno provocato impulsi, noi avremmo mappato il mercato in questo modo. E praticamente l'indice avrebbe portato il movimento senza una minima titubanza fino al 31 luglio 2023. Quindi questo rialzo, anche per un investitore medio termine o lungo termine, sarebbe stato completamente giustificato, a livello logico, dall'analisi situazionale della price action. Ora la domanda è, se noi andiamo a vedere un cedimento, cosa che avviene qua dentro? Qua abbiamo un cedimento il 28 di agosto, ok? Scusate, abbiamo un cedimento il 14 di agosto che viene poi riconfermato. Mercato cosa fa? Queste sono tutte le lineette che ho tracciate a mano, non stiamo parlando di indicatori, qua non serve nessun indicatore. Quello che vediamo, demanda che viene generata, corrottura, mercato che la va a violare. Quindi io queste le faccio diventare rosse quando questa zona cede. E qua a livello di narrativa, quello che succede, è in realtà molto semplice da andare a analizzare, perché qua cede la struttura weekly, il mercato crea una supply di riferimento con un minimo e un massimo, e il mercato qua continua a proiettarsi, si approccia nuovamente all'interno di questa zona. Quando si approccia su questa zona, dove torna? Su quella zona che abbiamo qualificato prima. Quindi le logiche a livello di price action sono molto replicabili e sono soprattutto molto oggettive, perché la price action posso capire che può essere complicata da andare a mappare con un algoritmo, perché devi dargli 200 regole, quindi devi dirgli, devi guardare chiusura, devi guardare se la chiusura di questa settimana è più alta della precedente o del daily, ma quando siete analisti discrezionali, quindi il vostro alfa, il vostro edge, è il ragionamento, e al giorno d'oggi l'analista discrezionale io dico ancora che ha il suo perché, le macchine non sono arrivate a quel punto, a meno che non parliamo di colossi come Blackrock. Se prendiamo colossi come Blackrock, Aladdin, che è la loro intelligenza artificiale, è un qualcosa di spaventoso, parliamo di entità che hanno miliardi e miliardi e miliardi, non li contano per quanti ne hanno. Quello che vediamo in questo caso è che si ricrea una distribuzione da qua dentro e riconfermiamo la rottura di struttura. Quando invece noi recuperiamo il livello, quindi quando effettiviamo un breakout e rientriamo, noi abbiamo una continuazione di quello che è il trend generale, perché noi possiamo avere una logica di lungo termine come il weekly e una logica di breve termine. Quando noi abbiamo un riallineamento, la cosa bella di questa tipologia di analisi è che tu questi movimenti non devi per forza seguirte dal weekly, cioè quando cede un'impalcatura di prezzo come questa e sei all'interno di un trend completamente generale, rialzista, sei all'interno di una condizione che è rientrata risk on, tu questo movimento puoi prendertelo completamente andando a lavorare dai time frame inferiori. Quindi queste logiche sono utili sia per un analista fondamentale, sia per un investitore a lungo termine, sia per uno speculatore. Perché? Vi spiego perché. Perché quando tu tracci dal weekly il zone e quindi quando conosci bene le impalcature, quello che poi vai a vedere, c'è una domanda, no? Se voi avete tracciato questa impalcatura in modo completamente identico a come l'ho fatta io, che non ho usato nient'altro che la price action, vedete un mercato che arriva qua, approccia, inizia a stazionare e poi rompe definitivamente questa zona. La prima volta che torna all'interno di questa logica, quindi all'interno di questo box, è questa condizione qua. Ora, a livello di chiusure e a livello di reazioni, questa condizione qua, se andiamo a ragionare a chiusure candela, se andiamo a ragionare a sostenimento del movimento e momentum, chi vi sembra più forte qua? I buyers o i sellers? Scrivete in chat. Datemi una motivazione di questa cosa. Io ho creato delle regole che negli anni mi aiutano ad andare a mappare queste logiche, ok? Come faccio a mappare queste logiche? I movimenti, che poi vengono definiti in realtà insider candle, ok? I movimenti che mi danno tanto una informazione, mi cancello questo per farvi capire, sono i movimenti che rimangono inclusi all'interno di week precedenti. Cioè la prima volta che noi approcciamo il livello, dopo la rottura, il mercato, qua parliamo del daily, quindi parliamo comunque di un altro time frame importante, ha una chiusura accettata su questa zona qua e ha un'escursione massima che è su questo minimo, ok? Questa condizione va a generare una potenziale barriera e di link range per le giornate successive, soprattutto nel momento in cui vedete che loro insistono, insistono nuovamente e non riescono. La candela di conferma di un'operatività del genere lungo termine è effettivamente la candela di rottura, ok, del massimo della giornata che ha portato il prezzo qua dentro. Chi è che ha portato il prezzo a testare questo livello e a rifiutarlo nuovamente? Questo, quindi dal momento in cui questa candela chiude. Noi abbiamo tutto questo potenziale di escursione rialzista e la stessa cosa a livello settimanale, ecco perché io dico che la parte di analisi fondamentale è molto importante, e di analisi multi time frame, se siete degli investitori, è importante. Qua, ok, questo era questo livello. Questo qua è un altro livello. Guardate con che precisione è andata a ribilanciare. Cioè qua si crea una demand, ok, perché il mercato rompe esplosivamente. Questo è il modo in cui vanno a ribilanciare questa zona. E soprattutto, vi faccio ragionare su una cosa. Quando noi creiamo, non abbiamo ancora testato questa zona, ok, e andiamo a creare delle impalcature intermedie, quindi qua dentro vedete che il mercato crea una nuova zona perché ha rotto qua. Poi che cosa succede? che il mercato qua dentro rigetta dentro la demanda, quindi ritorna nella demanda e prova a fare un massimo. Però questo massimo fallisce, ok? E il mercato torna giù rompendo questa zona con questa candela qua dentro. Quando rompe questa zona, guardate su che livello va a ribilanciare. Sul livello precedente. E allo stesso modo, quando il massimo di questa candela che ha ribilanciato cede, sul weekly, noi siamo in proiezione long. la stessa cosa che vi ho fatto vedere sul daily qua dentro, ok? Adesso, vabbè che non ci vuole uno scienziato, ma adesso una zona di ribilanciamento di Nasdaq potenziale per le prossime settimane, quale potrebbe essere? Potrebbe essere il 18.949, ok? Perché si aspetta quel livello? Facciamolo verde. Perché questa impalcatura, a parte che non ha provocato nessuna tipologia di ribilanciamento, quindi ha una demanda che in letteratura, tra l'altro da formatori come Sam Seydan, viene definita fresh. Ma al di là di questo, se noi andiamo a ragionare anche su struttura di mercato lungo termine, quindi ci prendiamo un settimanale, ci prendiamo un daily, quello che andiamo a vedere qua dentro, e lo possiamo vedere semplicemente andando a scandagliare quello che ha fatto il prezzo, è che in realtà, dopo questa rottura, il mercato l'ha testata alla perfezione, ma non ha ribilanciato l'intero movimento. Che cosa intendo per ribilanciare? Quando noi rompiamo un livello in modo esplosivo, ok? Come in questo caso qua, il mercato tende poi successivamente a tornare sul livello e a ribilanciarlo, ok? Fino alla chiusura, ok, della candela di riferimento, quindi della week precedente, infatti in questo caso è arrivata qua. Questo livello non è ancora stato ribilanciato. Tutto questo livello qua, il mercato è arrivato, per carità è arrivato su questo livello, ma questa potrebbe essere una zona sensibile di potenzialità direzionale dalla quale gli indici possono ripartire, ok? Quindi già stanno spingendo tanto, potenziale di bilanciamento, e soprattutto andiamo a guardare la logica del daily quando va a fare logiche di rottura impulsiva, no? Che cosa vediamo? Rottura impulsiva, creazione di un'inefficienza, lui può salire anche per tempo, ma poi la logica di ribilanciamento è che dopo che lui rompe aggressivamente qua, si va a generare tipicamente un canale di regressione, come questo qua. Il canale di regressione quando cede e non si hanno delle conferme a livello di logica, vanno a dare delle informazioni molto importanti di potenzialità direzionale. Cioè se io rompo questo canale con un corpo candela, fino a dove possa arrivare è la risposta, che è la domanda, scusate. E questo è il livello. Quindi il livello di ribilanciamento. La stessa cosa avviene qua. Quindi se io qua dentro mi vado a fare per le prossime settimane un canale rialzista, che è in prossime settimane, mercato che rimane all'interno di un canale rialzista, e vediamo un cedimento strutturale del canale rialzista, in questo caso la proiezione, sempre a livello probabilistico, sul lungo termine, che noi possiamo andare a vedere per un ribilanciamento che è puramente, che è puramente fisiologia di mercato, quindi andare a colmare le inefficienze di mercato creato in determinati movimenti esplosivi, e fino a qua. Ok. Ci siamo ragazzi uno in chat. Vi faccio vedere una cosa sul bear market precedente. Andiamo indietro, vi faccio vedere una cosa. Anzi, andiamo su qualche asset differente. Andiamo tipo sul crude oil. Andiamo su US oil. Andiamoci qua e andiamo a vedere delle logiche dal weekly. Ok. Guardate in questo caso che cosa sta facendo il mercato. Allora, noi siamo andati a creare delle strutture ribassiste, quindi abbiamo violato questa supply, cioè abbiamo generato questa supply, quindi violato questa precedente impalcatura, riconfermando la sell. Il mercato ha creato un'altra violazione strutturale, che è questa qua, provocando una rottura sell. Adesso il mercato, questa rottura, infatti dobbiamo aggiornare i colori, la sta ribilanciando. Infatti il mercato ha rotto nuovamente al rialzo. Qual è il livello di ribilanciamento? Cioè fino a dove può arrivare a livello di analisi pura del rapporto di forze che ci sono? US oil può arrivare senza nessun problema a questo livello. Ok. E tra l'altro questa cosa ci viene in aiuto quando lavoriamo sulla distribuzione dei prezzi. Quindi se io mi prendo, faccio vedere com'è, poi si intersecano fra loro le logiche, se io mi prendo un fixed range volume profile, ok, di tutta questa zona che io sto analizzando, che cosa vado a notare? Vado a notare che il livello che io ho segnato è praticamente sovrapponibile alla fine di un vuoto volumetrico e quindi all'approccio verso una zona di volumi più alti. Quindi è il punto di raccordo a questo livello che vi ho segnato fra un low volume node, quindi dei volumi a basso volume e dei volumi ad alto volume. Queste sono zone molto liquide, queste sono zone illiquide, quindi zone dove il mercato è portato a ribilanciare. Ok. Se noi andiamo indietro e prendiamo le stesse logiche qua dentro e ci prendiamo tutto questo rialzo, noi ci rendiamo conto che il mercato non ha fatto nient'altro che ribilanciare una zona illiquida qua dentro, quindi portarsi al di sotto del movimento, questo qua, quindi in palcatura ribassista, ribilanciare su una zona liquida e dopo che ha ribilanciato su una zona liquida andare sulla zona successiva. Questo è quello che mi aspetto sul lungo termine da US Oil, quindi andare a lavorare di ribilanciamento su queste zone qua. Prendiamo magari anche un asset forex, andiamo sull'euro dollar e partiamo anche qua dal weekly, a parte il rapporto di forze che abbiamo avuto, quindi tutta la parte di struttura di lungo termine. Quello che notiamo che non ha bisogno in realtà di basarsi su una struttura di lungo termine perché auto è evidente, è un cedimento di una delle demand più importanti, l'8 aprile, quindi tutta l'impalcatura di prezzo di euro dollaro è fallita, è stata rotta in questo caso. Quello che vediamo è che anche le strutture intermedie, quindi le impalcature intermedie che tenevano il prezzo sono state rotte a ribasso e vediamo che il mercato non è riuscito a rompere qua dentro la supply che era artefice del movimento. Questo parliamo di weekly. Questa è una cosa molto importante perché se andate a guardare qua euro dollaro non è mai riuscito ha fatto tutte accettazioni parziali, scusate, tutti rifiuti non accettazioni parziali senza mai andare ad accettare il livello e quello che noi vediamo in questo caso è che l'euro dollaro si sta protraendo nuovamente verso questa impalcatura e molto probabilmente vediamo un attimo dal daily molto molto probabilmente quello che ha fatto e quello che ci dava anche una possibile entrata short su gold è proprio la rottura di un'impalcatura sul time frame inferiore quindi daily che è il cedimento strutturale ma quello che vediamo qua al mercato in questa rottura quello che vi spiegavo quando in rottura lascia queste inefficienze il comportamento tipico è quello di ribilanciamento di quest'ultime ok e se andiamo avanti e andiamo a vedere su quello che noi ci troviamo al grafico quale potrebbe essere un potenziale livello di ribilanciamento dell'euro dollaro abbiamo sulla sinistra questo qua ok quindi questo momentum dell'euro dollaro secondo me non è un momentum che è destinato a girare nel breve perché la tendenza weekly la tendenza monthly e la tendenza anche daily è completamente ribassista se noi andiamo qua notiamo che l'euro dollaro nel 2023 quindi nell'anno record di rialzo cioè 2022 si è lasciato alle spalle una inefficienza di prezzo praticamente record cioè in un mese che era novembre si è fatto una movimentazione che non si è fatta neanche in tutto l'anno successivo qua si è fatto il 7.9% quindi questa condizione qua non è raro che venga ribilanciata e fino a dove venga ribilanciata a un livello di fair value ok perché perché come vi spiegavo prima ritornando alle logiche di price action se io prendo questo impulso ok e vado a vedere dove abbiamo dei volumi bilanciati senza dubbio questo ma se vado a vedere dove il mercato non ha scambiato correttamente vediamo sicuramente questo livello ok quindi vedendo che tutta la struttura è allineata short che non sono riusciti a far cedere queste impalcature rialziste se questa impalcatura ribassista cede ci siamo molto vicini ok con questo momentum dell'euro dollaro possiamo andare a vedere proprio un ribilanciamento di quella zona ok ora vado a rispondere alle domande relative alla live se dovessi consigliare un asset per principiante da cui partire domanda che fa Lorenzo allora io so che non vi piacciono le mie risposte perché voi sperate sempre che io vi dia una risposta che vi sprona a tradare e vi sprona a fare il leap of faith quindi il salto di fiducia però quello che vi devo dire è che l'asset da principiante non esiste cioè il trading per principianti è semplicemente un mezzo di trasferire soldi sul broker togliendoli dalle vostre tasche perché perché non è un settore per principianti questo è un settore dove tutta la parte di test di validazione di scelta dell'asset di analisi Monte Carlo di test di robustezza te la fai in virtuale ok l'asset da principiante non c'è ci sono degli asset trend following come gli indici che possono essere a livello di logiche più facili per costruire un edge soprattutto se lavori sul lungo termine ma l'asset da principiante il trading non è un qualcosa di semplice né adatto a tutti poi cosa nelle pensi di exchange di Mosca che blocca le transazioni contro valore euro e usd contando che ora quindi la maggior valuta sarà la cinese allora questione dedollarizzazione questione dedollarizzazione sta procedendo ma sta procedendo in modo molto leggero fino al momento in cui non uscirà Bricks Pay se uscirà Bricks Pay e io penso che sarà molto più facile vedere una terza guerra mondiale piuttosto che l'uscita di Bricks Pay che è un sistema di pagamento su blocco Bricks con un controvalore in deposito di oro quindi si torna al gold standard sarebbe una rivoluzione mondiale immaginate tutti i risparmiatori che cambiano i depositi su altre valute il dollaro che inizia insomma è uno scenario catastrofico per l'America però ricordate quando dicono eh ma l'America non ha un back da parte di niente l'America è uno dei più grandi eserciti al mondo quindi in realtà esporta democrazia e controllo tramite mezzi che non sono tradizionali quindi vediamo che cosa succederà qual è il medico secondo me per approcciare alla gestione del rischio di una strategia swing o positioning meglio ragionare sul rischio della media anno di operazione oppure sulla singola operazione io ragiono Cristian sulla singola operazione l'approccio che io utilizzo per la gestione del rischio della singola operazione è il medesimo poi faccio analisi quando raggiungo 100, 200, 300 sample storici sulla singola strategia cosa intendi per accettazione parziale per accettazione parziale intendo quando tu hai una wick ok un corpo candela e la candela successiva ok ti apre qua e ti fa corpo candela e anche senza wick ok questa qua è un'accettazione parziale perché è vero che ho chiuso sopra al corpo della candela precedente ma sono contenuto all'interno ancora della massima escursione quindi in realtà qua potrei essere benissimo in distribuzione asset buoni per una strategia trend following come ho spiegato prima gli indici sono buoni sono short su USD Mexican Dollar dopo l'elezione presidenziale l'ho visto quello short l'ho visto io non l'ho tradato quello short per una questione di commissioni e spread non mi conveniva avevo già delle operazioni nel mercato belle importanti sull'indici però sì era una bella operazione Antonella hai fatto bene a mio parere Alberto non ho capito questa cosa dell'impalcatore nella situazione ribassista dove mi serve aspettare ribilanciamento sulla zona di rottura ribassista cioè se qua tu stai costruendo pressione short e lo vedi dal daily ok quindi qua dentro stiamo costruendo pressione short e questa di faccia e tazione la tua impalcatura ribassista diventa questa ok quindi nelle settimane a venire se la chiusura settimanale si mantiene così questo è daily ma se si mantiene così e vedi un ribilanciamento qua dentro la direzionalità non è quella se non è che è sempre long solo perché è un indice ok poi qua siamo sull'euro dollaro sono long sui questetti cosa ne pensi che continuerà a salire allora a parte che gli indici dipende se gli approcci in speculazione o trend following dipende continuerà a salire con quale orizzonte temporale una settimana un mese un anno qual è la domanda Antonella perché dipende da che trader sei hai avuto momenti in cui hai pensato di mollare il trading o qualche attività imprenditoriale allora il trading mi è capitato ma non l'ho mai fatto a livello di gesto quindi dire no chiudo tutto stacco i conti prelevo non l'ho mai fatto ho avuto dei momenti dove dicevo mi sembra di andare avanti e poi fare tre passi indietro e farne quattro avanti e poi farne quattro indietro cioè l'altalenanza quei mesi anni di altalenanza di profitti perdite profitti perdite poi chiudi in profitto l'anno però dici però non è abbastanza per viverci ok quindi come posso fare a aumentare e erroneamente io all'inizio pensavo e devo aumentare le percentuali ok quando in realtà ero sottocapitalizzato all'epoca facevo belle percentuali ma ero sottocapitalizzato cioè potete essere bravi quanto volete ma con mille euro di conto non ci fate niente ragazzi quello è il discorso strategia metalli performa bene molto bene la strategia ribilanciamento un mese sono swing sono entrato a 31 omaggio long bella Antonella eh bella posizione magari parzializza e continuo a correre insomma non è da me darti consigli finanziari consigli PAC su etf allora io ragazzi non consiglio niente io quello che consiglio è di fare degli investimenti o della speculazione informata gli etf sono un ottimo strumento sono un ottimo veicolo a bassi costi eh di commissione in mano vostra sotto controllo vostro e sicuramente io vi posso dare una certezza ragazzi io in base alla persona perché poi quella che è l'abito sartoriale va costruito sulle esigenze della persona e non sono io un consulente finanziario per farlo ma quello che vi posso dire ragazzi è che tenere soldi cash fermi in banca è una vittoria assicurata i mercati finanziari sono un rendimento non certo sono informazioni diverse rendimento non certo contro vittoria assicurata io per tutta la mia vita sceglierò speculazione investimenti in real estate investimenti lungo termine investimenti settoriali ok e diversificazione ok a tutti gli effetti il cash fermo questi livelli di inflazione perde continuamente valore perde potere d'acquisto quindi sono delle delle visioni differenti ma ci sono dei dati che non sono opinabili sto lavorando con strategia Asian sono diventato funded grazie mille grazie a te Vincenzo sono felice che vi sia piaciuto ho quasi preso un conto da 160.000 ftmo su Xau quella operazione va male di quella challenge ma non puntare tutto su un'operazione è un peccato ti vai a mettere con la corda al collo su una singola operazione poi attenzione che quando fai profitti giganteschi rischi anche che la prop non ti paga ci parli dei tuoi fallimenti nell'ambito trading in breve se vuoi grazie ma guarda ce n'è uno recentissimo ragazzi uno dei miei più grandi fallimenti è stato depositare dei soldi senza fare la due diligence che poi in realtà non c'era su FTX io ragazzi ancora al giorno d'oggi sto aspettando di vedere i miei fondi accreditati con seguendo una procedura ma immaginate la disillusione quando voi siete bravi gestite il rischio bene ma subite un rischio che non è intrinseco al mercato ma è esterno allora in quel caso iniziato a dubitare tanto di della parte quanto è controllabile il rischio no? qualcuno dice vabbè ma quella può essere considerata sfiga in realtà c'è gente che su FTX teneva gran parte dei capitali perché erano dei professionisti lavoravano con arbitraggio lavoravano con speculazione futures erano tante persone che ci mangiavano ok? e vedere la SEC corrotta da un punto di vista miliardi che sono spariti sotto gli occhi delle autorità in quel caso sì lì ho pensato forse lascio la speculazione crypto poi per fortuna ho cambiato e messo fondi su un altro provider del quale non mi sento assolutamente di fare il nome perché non voglio fare pubblicità però sta andando tutto bene però lì è stato un momento in cui ho pensato la speculazione futures sulle crypto non fa per me perché nonostante i profitti fatti poi li ho lasciati tutti a loro per una questione del genere ma è capitato anche ragazzi anni fa se vi ricordate caso al pari se vi ricordate casi in cui sono spariti con il malloppo i broker quindi il consiglio più grande non è finanziario ma è proprio di sicurezza di gestione del rischio andate e lavorate su piattaforme regolamentate ok ragazzi ti faccio una domanda off topic nel video di Patrick nell'intervista parlavo degli stessi argomenti trattati mercoledì o sono argomenti emersi è una curiosità mia Patrick ragazzi ha un'operatività io vi posso anche dire è crude oil è un'operatività crude oil trend following fatta con delle logiche che affondano le radici nell'analisi volumetrica e vanno a lavorare prettamente trend following quindi lui fa tutta un'analisi fondamentale un'analisi delle business zone più importanti e poi fa l'esecuzione con l'analisi volumetrica Jan Smolen invece che è un altro campione del mondo è un analista prettamente fondamentale ha un background dentro fondi di investimento sull'Energis quindi conosce molto bene le dinamiche ragazzi io spero la live vi sia piaciuta questa masterclass noi ci vediamo settimana prossima venerdì con la parte 3 della masterclass per section come sempre se avete piacere lasciatelo in chat e noi ci vediamo settimana prossima ciao a tutti ragazzi grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti